Partirà il prossimo 21 maggio nel reparto di pediatria dell'ospedale Perrino di Brindisi il progetto DogTor in Corsia, il primo progetto di interventi assistiti con animali più noto come Pet Therapy a cura della Virlabor, struttura accreditata all'erogazione di questa forma di assistenza con una equip multidisciplinare. La presenza degli animali in particolare in questo caso di due cani Labrador ha l'obiettivo di aiutare a umanizzare l'ospedalizzazione dei più piccoli aiutandoli in alcuni casi ad abbassare l'ormone dello stress favorendo la guarigione come spiega Francesco Gallo dirigente della pediatria dell'ospedale Brindisino. Io credo che la presenza di un essere vivente diverso in Corsia sia molto importante per i bambini in primo luogo perché li formano ad accettare una creatura diversa da sé e questo li porterà anche ad accettare una persona diversa da sé. Poi la presenza del cane, dell'animale in reparto, un animale socievole, un animale dolce, mette di buon umore i bambini e si sa che il buon umore è l'antagonista degli ormoni dello stress che contrastano la guarigione. Insomma un progetto che favorisce la relazione tra medico-paziente e lo stesso animale come spiega Teodoro Semeraro responsabile della Vir Labor. Questo progetto quasi prefigge di avvalersi della relazione che si fa stabilire fra il cane e i bambini al fine di decontestualizzare i ragazzi dall'ambiente ospedaliero con tutti diciamo la situazione che ovviamente concorre e aiutare anche l'equipe medica nell'avere la predisposizione del bambino rispetto alle cure mediche.